Presto ragazzi dobbiamo andare via in Montana subito ci sono degli affari da fare laggiù Overnight Sensation bentornati ragazzi si parla ancora di Frank Zappa l'ultima volta che ho fatto la puntata su di lui qualcuno di voi tra i commenti ha messo ma perché non metti un disco magari più malleabile un disco di un primo approccio che qualcuno che non conosce Zappa magari si può avvicinare a questo grande artista bene si parlava proprio di Overnight Sensation infatti lo prendo lo metto sul piatto lo inizio a riascoltare mi inizio a fare delle domande dicendo sì sicuramente è un disco più malleabile perché questo esce nel 1973 ed è un po' diverso da quelli precedenti perché Pinot Rats, Chang'e's Revenge, Waka Jawa Waka, The Grand Wazoo, C'è del Jets potentissimo cambi di tempo sonorità molto più arcigne diciamo così quella fusion che lo caratterizza con cambi di tempo con tempi dispari con un sacco di innovazioni e sperimentazioni che per l'epoca erano davvero avanti anni luce qui invece si ritorna un po' più alle sonorità blues rock blues anche se il livello è sempre altissimo perché anche qui ci sono dei cambi di ritmo che se non sei abituato non hai l'orecchio allenato difficilmente riesce a stargli dietro però diciamo che nel complesso è un po' più accessibile ecco forse diciamo così la parola giusta può essere quella qui dietro ho voluto mettere Joyce Garage Act 2 & 3 il mastodontico capolavoro concept triplo qualcosa di enorme perché c'era la sua faccia perché di solito in molti dei suoi dischi c'era il suo bel faccione qui invece non c'è Overnight Sensation 1973 con una band un po' rimodellata dei Mothers of Invention infatti abbiamo qui dentro i testi con le fotografie dei vari membri adesso ve li vado ad elencare Tom Flower al basso Bruce Flower al trombone Ralph Humphrey alla batteria Sal Marquez alla tromba e voce e poi abbiamo Ruth Underwood la nostra Ruth alla marimba e al vibrafono percussioni e quant'altro e poi abbiamo Jan Underwood al flauto e al clarinetto e al sax tenore Ruth e Jan sono marito e moglie hanno lo stesso cognome perché la Ruth scoprò oggi che in effetti non si chiamava Underwood di cognome ma prese il cognome dal suo marito Jan dal quale poi negli anni 80 non 86 mi sembra si separò però noi la conosciamo come Ruth Underwood ma in effetti si chiamava Ruth Comenhoff quindi scoprò oggi questa cosa appunto perché stavo facendo la ricerca su questo disco poi abbiamo George Duck il grande alle tastiere e abbiamo anche Jean-Luc Ponty il francese violinista virtuoso del violino elettrico dove abbiamo dei duetti spettacolari tipo in Zombie Wolf dove la chitarra di Frank e il violino di Ponti si mescolano in maniera pazzesca comunque avevo aperto appunto la puntata con il Montana col testo del Montana un testo demenziale che però ecco la potenza di un artista del genere è proprio questa parlare di cose serie camuffandole da demenziali e per fare ciò ci vuole una grande intelligenza e sappiamo che Frank ne aveva tanta da vendere per quello che ci ha lasciato lui ha dedicato la sua vita, la sua intera vita, le sue intere giornate, le ore del giorno erano dedicate alla musica non è un classico cantante o chitarrista o cantautore, lui è un compositore, è qualcosa di più perché tutto quello che conosciamo della sua immensa discografia ci sono oltre 60 lavori, studio che poi escono anche dei postumi, insomma abbiamo una panoramica di 160 album sparsi per il mondo quindi se qualcuno qualche volta mi chiede, dice ma sul canale come fai a farti venire queste idee per fare le puntate beh se dovessi dedicare il canale solo a Frank Zapp passerei a posto per 4 o 5 anni tranquillo perché c'è tanta roba da dire che ogni giorno ne scopri una diversa comunque torniamo al disco, allora Overnight Sensation appunto dicevo esce nel 73 copertina bellissima, ti ci perdi perché ci sono tutti i riferimenti alle canzoni ovviamente in maniera molto cartoon, davvero bella la copertina poi vi mando qualche foto in slide così la potete vedere anche voi e quindi dicevo può essere un album d'approccio per entrare in questo mondo immenso in questa mente fantastica di Frank Zappa che ci ha regalato tutta questa arte i pezzi sono più orecchiabili però comunque non mancano i virtuosismi i suoi classici stacchi e cambi che siamo soliti conoscere ci sono pezzi come appunto Montana dove dice andiamo via nel Montana subito perché lì c'è da fare un sacco di soldi perché potremmo andare a coltivare piantagioni immense di filo interdentale ora mi viene alla mente una storia di questa canzone appunto canzoni tra l'altro come Camarillo Brillo, come I'm the Slime, come Dirty Love che verranno riproposte spesso in live e diventano una sorta di rappresentazione teatrale perché andare a vedere i suoi concerti era appunto assistere a degli spettacoli non solo musicali ma anche scenografici di battute tra lui e i membri della band quindi dicevo mi viene alla mente un piccolo aneddoto a riguardo di Montana quando stavano facendo un concerto e uno dal pubblico fa una richiesta e dice perché non ci canti Weeping Post di un gruppo, Allman Brothers, che non conosco sinceramente e lui attacca improvvisando e invece di Weeping Post di quel gruppo la canzone diventa Weeping Floss adesso, spinto dalla curiosità, vado a leggere dal traduttore cosa significa l'uno e cosa significa l'altro la parola Weeping Post significa il palo della fustigazione mentre Weeping Floss significa filo interdentale cioè gli viene così sul momento, inizia a strimpellare la sua chitarra tra l'altro in maniera molto più veloce come tempo di quello che erano soliti suonare su Montana quindi gli altri si trovano un attimino in difficoltà perché non riescono a stargli dietro, lui parte, la velocizza e ci mette dentro la parola Weeping Post di quel gruppo quindi soddisfa la richiesta di quella persona lì nel pubblico però comunque la fa sua in ogni caso e quindi diventa Weeping Floss e questa canzone può essere trovata in un album dal vivo che si intitola You Can Do Death On Stage Anymore volume 2 quindi questa va sicuramente reperita in qualche modo perché è una chicca fantastica quindi Montana diventa un cavallo di battaglia nei live con la sua voce baritonale molto molto bassa che utilizza anche in Dirty Love e poi ci sono altri pezzi come I'm the Slime per esempio che qui vediamo in tutto questo po' di roba che ci rappresenta la copertina qui c'è lui che dalla TV con uno sguardo demoniaco ed esce fuori questa specie di melma appunto I'm the Slime e questa canzone è avanti anni luce perché appunto si parla di tutto ciò di tutta la melma che la TV ci butta addosso quindi esce dalla TV tutta questa orripilante schifezza e lui lo dice già nel 1973 siamo nel 2024 penso che nulla sia cambiato anzi forse qualcosa è anche peggiorato per cui quello che ci vuole inculcare la TV il testo per esempio dice I'm the tool of government sono lo strumento del governo oppure sono volgare pervertito sono destinato a governare quindi è come se la televisione ci parlasse e ci svelasse veramente chi è in effetti quindi guardate che lungimiranza che genialità mi obbedirai mentre ti guido cioè pazzesco roba del genere forse se l'avessi composta ora te l'avrebbero forse bannata perché ormai sui social sì pensiamo che possiamo dire tutto ma in effetti non è così perché quando scrivi qualcosa che l'algoritmo lo ritiene offensivo in qualche modo te lo bannano subito quindi un testo del genere ma come tanti altri testi suoi che erano molto provocatori ed erano veritieri e reali dicevano veramente le cose come stavano a molti non stavano bene all'epoca come oggi quindi grandemente una delle più grandi sicuramente della musica mondiale non solo appunto per la realizzazione del testo e delle musiche ma per tutto ciò che è stato lui e per tutto il contributo che ha dato al mondo intero ultima curiosità riguardo di questo disco overnight sensation vado su traduttore ovviamente significa sensazioni notturne dove ci sta un po' tutto ciò che abbiamo detto fino ad ora camarillo brillo per esempio eccomi viene in mente un'altra è una località californiana camarillo mentre brillo era una marca di lavatrici dell'epoca quindi unite queste due parole diventa camarillo brillo però il testo anche lì in quel caso è un testo impegnato parla di libertà eccetera quindi tutti i testi che all'apparenza possono sembrare demenziali hanno tutti dietro delle grandi verità dicevo ultima curiosità prendo un attimo un disco perché ce l'ho per dirvi questa curiosità ecco Ike e Tina Turner cosa c'entrano in questo caso? dunque in questo disco in molte delle canzoni quando sentiamo i cori la voce è di Tina Turner e delle sue Ikez perché le Ikez erano le coriste di questo duo che ha fatto la storia sicuramente del soul Ike e Tina Turner quindi in overnight sensation Tina Turner con le sue coriste arricchiscono i cori delle canzoni tipo Dirty Love eccetera solo che c'è un però quando l'album deve essere pubblicato infatti non troviamo qui menzionate da nessuna parte né Tina Turner e né Ikez infatti nei credits non ci sono non vengono accreditate per questo disco infatti Frank ci rimane anche un po' male perché le voleva sicuramente accreditare ma il problema fu proprio Ike il marito di Tina Turner perché ritenne i testi troppo volgari troppo demenziali quindi non gli piacevano quindi decise di non far accreditare sua moglie e le sue coriste in questo disco scopro in questo momento che anche Tina non si chiamava Turner di cognome ma si chiamava Bullock e prende il cognome del marito quindi anche come anche lei come la nostra Ruth Underwood prende il nome del marito che poi diventa il cognome artistico che si porta avanti per tutta la carriera è quello che noi conosciamo bene ragazzi che dirvi aprire il libro di Frank Zappa e entrare dentro è qualcosa di meraviglioso lo consiglio a tutti se volete avvicinarvi a un artista eclettico come lui forse questo è il disco giusto Overnight Sensation 1973 con una band un po' rimodellata con delle sonorità un po' più orecchiabili ma ripeto non mancano sempre le cose difficili avevo registrato quando lo stavo ascoltando in questi giorni per fare questa piccola ricerca e mettere sulla puntata stavo ascoltando l'intro di Aind Slime ve lo faccio partire speriamo che non ce lo bannano sentite che groove I'm the slime io sono la melma che entra nelle vostre case e vi dice un sacco di cazzate allora come oggi ecco qua già si ritorna a quel classico cambio tanta roba tanta roba va bene per oggi è tutto vi ringrazio come sempre vi saluto vi do appuntamento al prossimo video non dimenticate di commentare qua sotto perché i vostri commenti come vedete sono sempre utili per farmi venire idee per prossime puntate se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale vai nel collection di Domenico Vasile dove cerchiamo di parlare di musica di buona musica di musica con la M maiuscola un grande saluto da Domenico ci vediamo alla prossima ciao ragazzi check the mic and make sure it sound right boys ciao ciao Grazie per la visione!